Gentili amiche e amici che ci seguite da casa, un caro saluto dal vostro Marco Pareti per la rubrica Borgo Bellezza, consigli per il viaggiatore. Ai microfoni di RTN Radio e per gli lettori di About Umbria abbiamo con noi il nostro amico, Fabio Capitanucci, che è un profondo conoscitore storico del territorio umbro e questa volta ci porta sempre in viaggio da qualche parte, ma tra poco ve lo diremo. Ciao Fabio, ben arrivato, benvenuto. Ciao a tutti, ciao Marco. Bene, allora per questa puntata Fabio appunto parlando con lui ha proposto di parlare del nord-est dell'Umbria, cioè quello che è un po' il territorio intorno a Scheggia e Pasce Lupo. Già i due nomi richiamano un po' di mistero, a volte di magia e anche storie un po' particolari. In un contesto dove nella volta precedente abbiamo parlato dell'Alta Valle del Tevere in Umbria, dove c'erano alcune caratteristiche specifiche riguardo l'arte, riguardo la coltivazione, distribuzione, riguardo i prodotti enogastronomici, ma riguardo proprio anche il fatto di alcune curiosità legate ai luoghi di interesse. Abbiamo parlato di Citerna, di Montone, del Castello Bufalini, di Città di Castello, abbiamo nominato Umbertide, Monte Corona, ma tante altre cose, così come Monte Acuto. Questa volta andiamo su questo territorio di Scheggia e Pasce Lupo, che secondo me anche dai nomi è molto da raccontare. Prego. Salve a tutti. Allora, io mi permetto di introdurvi nei miei posti del cuore, in quanto io adoro proprio queste parti qua. Vorrei partire appunto con parlarvi dell'abbazia di Sitria. L'abbazia di Sitria venne fondata nell'undicesimo secolo da San Romualdo e per raggiungerla bisogna passare attraverso i paesi di Scheggia, attraversare la gola del Sentino e vi garantisco che là il paesaggio è talmente apro e montano che non vi sembrerà più di essere nemmeno in Umbria. E' un'esperienza bellissima perché si attraversa questa stradina tortuosa, suonando il claxon, e poi appunto si giunge in questa gola, nelle vicinanze di Monte Cucco, e appunto si trova questa abbazia in stile romanico che venne fondata da appunto da San Romualdo e conserva una cripta che è una chicca con le celle dove appunto San Romualdo si fece rinchiudere volontariamente per sei mesi dai suoi confratelli. Ma anche a pochi passi da… Possiamo dire semplicemente l'abbazia di Santa Maria di Sitria che come tu dicevi molto bella si troviamo al confine appunto con le Marche, quindi siamo proprio nelle vicinanze appunto del confine marchigiano, no? Come veniva fatta. E il periodo storico siamo intorno all'anno 1000, giusto? Esattamente, intorno all'anno 1000. Se si prosegue per la strada si raggiunge il monastero di Fonte Avellana, d'accordo? Ma rimanendo sempre all'interno del territorio Umbro da Sitria a pochi chilometri si può raggiungere anche l'abbazia di Sant'Emiliano e appunto per raggiungerla bisogna si attraversa sia il territorio Umbrio che quello marchigiano, Umbro e Marchigiano, Umbro e Marchigiano però si rimane sempre appunto all'interno dell'Umbria di Comune di Scheggia e Pasce Lupo, Sant'Emiliano Cosa troviamo di particolare? Allora, innanzitutto quest'altra splendida abbazia fondata, si fa risalire la sua fondazione a San Pier Damiani intorno al XII secolo però dalla documentazione ci sono tanti rimandi che in pratica ci testimoniano che era già stata fondata almeno un secolo prima quindi si arriva sempre intorno all'anno 1000 d'accordo? Sì che ha una struttura molto elevata si trova proprio dentro il bosco e nel punto in cui si congiungono il torrente Sentino e il rio freddo che scende da Monte Cucco o rio Petroso o rio appunto vorticoso perché durante i periodi delle piogge le sue acque sono talmente erruente che appunto formano dei vortici e le sue acque vanno addirittura controcorrente e è particolarissima in quanto Sant'Emiliano era uno dei dei santi cristiani dei martiri della Numidia e appunto che venne traslato qui insieme al corpo di una santa donna che fu sepolta insieme ai suoi due gemelli ma bisogna pensare Scusa tanto per il fiume Sentino il Sentino che appunto dove Sant'Emiliano in congiuntoli è lì di vicino gli si corre come giustamente l'ho detto il Sentino mi ricorda appunto l'antica città romana di Sentinum dove c'è stata una famosissima battaglia e quella è stata la battaglia che ha coinvolto tutti i popoli ma ci troviamo nelle Marche nelle Marche subito per la città di Sassoferrato dove ha coinvolto tutte le popolazioni di allora in questa battaglia famosissima e che praticamente dove i Romani hanno vinto con una serie di strategie di altre cose ma ancora diciamo non erano i Romani che noi pensiamo antichi Romani come noi pensiamo ma era quel momento per capire chi era come evoluzione di predominio sui territori contro tutti i popoli e i Romani vinsero da lì partì proprio tutto quello che era la straordinaria storia dell'antica Roma il predominio sui territori ma non solo quello fu proprio una vera guerra mondiale per l'epoca per la storia dove i Romani la vinsero ma questo è stato proprio di là e scusa se ho fatto questa digressione ma tu mi hai sollecitato con il fiume Sentino che corre nell'Umbria ma poi va verso appunto questa antica città romana di Sentino No, hai fatto benissimo a porre attenzione e a ricordare la battaglia del Sentino perché la battaglia del Sentino rivestì una grandissima importanza e mentre oggi appunto questi posti ci appaiano un po' così abbandonati negletti poco conosciuti veramente molto poco conosciuti ma appunto per i Romani rappresentavano un punto strategico di fondamentale importanza non solo per per il dominio di queste popolazioni umbre marchigiane e quindi ma perché in questa parte qua vi erano e vi passavano e vi passano per oggi naturalmente le condizioni sono diverse dei sentieri che di strategia di grandissima di enorme importanza di collegamento tra la Romagna le Marche l'Umbria e l'alta appunto e anche la Toscana e bisogna considerare che nell'abbazia di Sitria appunto hanno soggiornato non solo San Romualdo che l'ha fondata ma anche San Pier Damiani il beato Tommaso da Costacciaro e non da ultimo il monaco Mainardo il quale intorno a 1070 partì per andare a fondare l'abbazia di Sassovivo a Foligno se vi dico poco è un po' come un'autostrada permettetemi questo gioco di parole della spiritualità sì assolutamente noi ovviamente questo è successo un po' più tardi rispetto a queste sentieri alla battaglia del sentino siamo in quel momento ci fu proprio la dichiarazione e proprio la testimonianza di chi in quel momento era la battaglia cosiddetta delle nazioni no? no 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 appunto questa importanza l'ha rivestita appunto da questo periodo della battaglia del sentino fino appunto al 1000 1100 dopo Cristo quindi sono luoghi che hanno avuto questa importanza per un lungo periodo di tempo ecco assolutamente assolutamente e quindi prego continuiamo allora trascheggiando certo poi rimanendo sempre nelle vicinanze e vorrei parlarvi anche appunto di un paesino che ha una caratteristica e si chiama Perticano ha una caratteristica cioè quello di essere diviso tra il una parte tra il comune di Schegge Pasce Lupo e l'altra quella di Sassoferrato una parte appartiene alla provincia di Perugia l'altra a quella di Ancona e una parte quindi all'Umbria e l'altra alle Marche appunto si trova nelle vicinanze dell'abbazia di Sant'Emiliano poi proseguendo oltre si può andare o a Sassoferrato appunto oppure si raggiunge curvando sulla destra il paese di Pasce Lupo prima di arrivare a Pasce Lupo però passando attraverso dei boschi e vi garantisco vi garantisco che lo spettacolo i panorami sono mozzafiato perché ci sono queste strade che attraversano i boschi d'accordo si vede anche l'eremo di San Girolamo l'eremo di San Girolamo dunque risulta essere stato abitato già dal 1300 però venne fondato appunto ufficialmente nel 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 1583 d'accordo e e purtroppo all'interno non si può visitare proprio perché ci sono ancora oggi gli eremiti e nel passato ha trascorso lungo periodo di decadenza poi è stato completamente ristrutturato però vi garantisco vi garantisco che vederlo da lontano poi si può raggiungere anche a piedi però è sicuramente di astenersi dal disturbare giustamente perché seguono la regola eremitica e poi si può continuare fino a raggiungere il paese di Pasce Lupo Pasce Lupo il quale è rimasto separato da da Scheggia fino al 1870 faceva comune a sé e si dice secondo un'antica tradizione che debba il suo nome e ci sono alcune teorie allora una che appunto si trovavano i territori di un certo proprietario che si chiamava Lupo Lupus d'accordo quindi Pasce Lupo territorio o addirittura vi è una leggenda che a me piace sempre ricordare in quanto si dice però naturalmente tutto da verificare che fu proprio da queste parti San Francesco incontrò il lupo d'accordo venisse da queste parti il lupo che San Francesco ammanzì nei pressi di Gubbio e anche questo mi piace un po' così ricordarlo tra le varie curiosità ok e quindi ecco e appunto rimanendo sempre in questo in questo ambiente c'è da dire che la l'abbazia di Sant'Emiliano viene fondata appunto dai Benedettini poi però vi fu una grande presenza dei Templari e quindi ancora oggi è ricordata come abbazia templare e bisogna specificare che in questi territori vi furono appunto due mansioni Templari molto importanti e molto vicine appunto quella di Perticano d'accordo il paesino che è diviso tra Umbria e Marche e poi poco oltre però in linea d'aria si parla di circa 10 chilometri la mansione di Purello di Fossato di Vico che è appunto una frazioncina delle del comune di Fossato di Vico e è molto importante proprio perché sono a testimonianza di quelli che oggi vengono definiti i Templari di Monte Cucco d'accordo ecco qua anche questo è un argomento fantastico anche questo è un argomento fantastico raccontaci facci sognare dunque i Templari di Monte Cucco appunto sono rimasti qua fino appunto al 1300 anno in cui venne sorpresso l'ordine Templare per ordine appunto proprio del Papa e con con la pressione di Filippo IV il Bello di Francia e poi appunto gli ultimi Templari vennero appunto vennero proprio espropriati e vennero appunto dichiarati contumaci perché poi loro non si presentarono al Tribunale nel 1310 che si è tenuto appunto da una corte che era appunto ambulante da una corte destinata proprio a giudicarli e si spostò da Sisi a Gubbio però è loro pronente e quindi poi loro seguirono i Templari di Monte Cucco anche appunto il destino di tutti cioè le loro proprietà vennero espropriate trasferite appunto ai monaci di San Giovanni degli ospedalieri di San Girolamo appunto e bisogna dire che si può parlare di presenza si suppone una presenza Templare anche nell'eremo di Monte Cucco in quanto sono state ritrovate alcune vestigia tra cui delle croci patenti tant'è che anche degli studi storici sostengono che appunto non fosse nato nel 1300 come eremo ma come fortilizio tant'è che una torre all'interno dell'eremo di San Girolamo venne abbassata e adibita a chiesa e quindi ecco qua la caratteristica la caratteristica suggestiva e peculiare di questi posti è appunto l'austerità del monte l'austerità di queste strutture che appunto erano destinate all'eremitaggio alla vita speculativa però allo stesso momento anche difensiva e la presenza dei monaci guerrieri dei templari quindi siamo proprio in un paesaggio mistico non credo proprio di esagerare ma è un paesaggio veramente mistico e poi appunto la presenza dei templari la ritroviamo fino alla chiesa di San Francesco all'interno del borgo di Costacciaro e bisogna ricordare che il santo patrono di Costacciaro è il beato Tommaso che dir si voglia il quale appunto andò di cui è proprio testimoniata documentata la presenza anche all'interno dell'abbazia di Sitria quindi ecco veramente qualcosa di unico di suggestivo poi si prosegue si può arrivare appunto fino alle faggete di Montecucco e lì è veramente per gli appassionati per i viaggiatori è veramente bello perché lo si può raggiungere o salendo da Sigillo che è il percorso più tradizionale e appunto poi c'è tutta una parte scoperta di Montecucco dove si lanciano con i deltaplani dove ci sono stati addirittura i campionati mondiali di lancio con il deltaplano oppure si può raggiungere sempre la cima di Montecucco salendo da Costacciaro che si arriva alla faggeta di Pian delle Macinare oppure attraverso una strada che però è bianca è molto più sconnessa è molto meraviglioso perché da una parte si sale in maniera dolce dall'altra parte sono degli strapiombi che proprio ti fanno vedere su questi sentieri tutte le marche fino ad Adriatico insomma si riesce a vedere esatto dalla parte dalla strada che poi raggiunge la cima dove si lanciano con i deltaplani stando in Umbria si può vedere il mare Adriatico bellissimo che poi di notte non volevo anticipare niente su questa cosa però ecco ovviamente stiamo parlando c'è anche una bella manifestazione che viene fatta a volte o riproposta per lo meno c'è stata una edizione quella di Umbria Libri che è stata fatta proprio sul Monte Cucco in una manifestazione di una settimana ricordiamo che ci troviamo come tu hai detto tra Bubbio e Gualdo no? Tadino e allora no e il Monte Cucco proprio si trova dunque lo si può raggiungere passando o da Scheggia o da Costacciaro o da Sigillo poi più avanti c'è anche la strada che conduce a Gubbio sia partendo da Scheggia che appunto anche da Gualdo Tadino però è più avanti quindi si attraversa sempre la dorsale Appenninica un paesaggio stupendo attraversando passando per Fossato di Guco ti ho perso ti ho perso l'inizio non ti sento non ti sento ora non ti sento pronto? non ti sento io ora oddio non ti sento Marco è è saltata la connessione non non ti sento ora ti sento ora ti sento adesso ti sento anch'io prima non ti sentivo quindi ero rimasto con la con la via Flaminia se ci puoi raccontare qualcosa sul passaggio appunto di questa strada certo certo un percorso splendido proprio dove vorrei condurvi aspetta aspetta io ho fatto la domanda quindi ho fatto via Flaminia adesso tu riparti la domanda che ti ho fatto d'accordo se ci puoi siamo tra il Gualdo e Gubbio tra il Gubbio e Gualdo e dove lì in mezzo appunto ci passa la via Flaminia antica via romana insomma allora appunto la via Flaminia è molto è molto importante e rappresenta un altro un'altra via che si può attraversare e ripercorrere ancora oggi e offre dei panorami scusate se 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 qualcosa anche di di troppo scontato però è così dei panorami mozzafiato unici perché attraversa da una parte si vede la dorsale appenninica che dal Monte Cucco prosegue appunto fino a Fossato di Vico e poi raggiunge Gualdo Tadino fino a Nocera Umbra e ben oltre chiaramente però restando all'interno del territorio Umbrio e poi naturalmente c'è la parte che da Gualdo Tadino appunto collega a Gubbio e è fantastica proprio perché appunto era l'antica via Flaminia l'antica via romana e però ci conduce anche ad un'altra parte della storia molto importante per l'Umbria perché se si arriva appunto a Gualdo Tadino poi tra Gualdo Tadino e Nocera Umbra e là non si può non ricordare i Longobardi la presenza anche dei Longobardi appunto e è molto molto caratteristica perché appunto nei pressi di Sigillo ci sono i regali di un ponte romano e poi appunto da lì poco oltre si attraversa proprio il borgo di Sigillo e via appunto la strada che conduce alla cima di Monte Cucco adesso che tu hai fatto questa cosa questa strada stretta mi viene pensato un po' quello che tu accennavi di Longobardi ricordiamoci che tra il lago Trasimeno e quella zona lì c'era il corridoio bizantino che collegava direttamente Ravenna a Roma in questo stretto corridoio dove passava a grandi linee senza adesso in questa occasione delimitare i confini precisi tra la costa nord del lago Trasimeno e quello che invece era appunto quella parte appunto che stai descrivendo certo certo poi bisogna anche considerare che al tempo l'idea di confine non è come oggi che è precisa al centimetro d'accordo chiaramente quindi poi c'erano anche i punti in cui si infiltravano più alcuni popoli poi per un altro periodo altri però il corridoio bizantino è quella parte stretta di territorio che collegava Roma a Ravenna e Perugia rappresentava il cuore il punto centrale e il punto in cui questo corridoio già di per sé stretto si restringeva al massimo e Perugia era territorio bizantino che non cadde d'accordo perché se caduta Perugia sarebbe caduto proprio anche l'impero bizantino questa questa via di collegamento perché Ravenna poi da Ravenna si andava c'erano le connessioni con Costantinopoli d'accordo e quindi con l'Oriente e questo ce lo ritroviamo qua ce lo ritroviamo proprio qui in Umbria e poi se questo mi piace proprio dirlo come piccolo come piccolo l'accenno e poi proprio questa realtà la si vede quando si si passa da Fossato di Vico Casa Castalda e si entra nel comune di Valfabbrica e lì proprio giochiamo proprio a metri e metri quindi zona bizantina zona lungobarda zona bizantina zona lungobarda e è fantastico in un confine molto pressibile e variabile però siamo lì certamente sì si ripercorre proprio la storia quindi non è solo un viaggio fisico ma proprio si attraversa il tempo si attraversa il tempo anche questa zona di Schegge Pasce Lupo è una zona completamente diversa da quella che abbiamo visto prima veramente montuosa dove ci sono questi boschi meravigliosi ma dove ci sono veramente delle chicche dei santuari come tu hai detto delle chiese delle abbazie e ma ci sono anche cose importanti da ricordare solo un aneddoto esiste anche un mostro di Scheggia che qualcuno ha raccontato anche di storia abbastanza recente del 97 questo è un po' un aneddoto per andare per andare fuori quando un pastore un certo Oddo Bruno Monti vide e vide qualcosa mentre tagliava la legna e poi anche un altro pastore vide una strana creatura in mezzo al bosco e quindi sentitele urla ma vide questa strana creatura e poi lui si rifugiò in macchina e riuscì poi ad andare via ma non fu l'unico che vide questa strana creatura da allora non si vide più niente ma ci fu questo episodio un po' particolare che interviene i carabinieri la forestale tutto il paese ne parla insomma di Scheggia di questa strana storia del mostro di Scheggia di questa strana creatura che viaggiava tra i boschi ma più non si è sentito ancora niente invece sono dei boschi meravigliosi dove in realtà ci sono queste sono più che altro leggende favole o fiabe che vengono raccontate da altre parti per qualcuno saranno storie vere insomma chissà dov'è la verità noi non lo sappiamo ma non si è più parlato di questa di questa cosa invece in realtà ci sono dei bellissimi esempi di natura di animali di paesaggi veramente delle passeggiate meravigliose da fare tra monumenti storici di interesse veramente culturale e luoghi paesaggistici naturalistici no Fabio? sì esattamente e appunto come nel passato questi boschi che appunto ne ho parlato molto anche con degli amici miei che sono montanari che sono friulani che vivono proprio nelle bosche nei boschi delle Alpi e in quali mi hanno detto guardate che i vostri boschi quelli là sono diversi dai nostri perché da voi vi è nei vostri vi è qualcosa di veramente mistico e non è un caso che San Romualdo che il monaco Mainardo che appunto i San Pier da Miani si incontrassero e fossero giunti qua e non è appunto un caso appunto che i boschi danno spunto a favole a leggende e questo è il bello che spinge appunto all'ispirazione che spinge a scoprire che spinge ad andare non solo a vedere ma proprio ad entrare dentro ad entrare dentro in una ricerca che è non solo appunto storica ma che tira fuori la fantasia tira fuori il bello che è di noi e appunto come nel passato ha ispirato questi monaci questi santi uomini poi ha ispirato anche appunto l'aspetto folcloristico d'accordo l'aspetto popolare e non da ultimo anche qui vorrei parlare dell'aspetto enogastronomico perché appunto è un ambiente completamente diverso d'accordo rispetto all'Alta Valle del Tevere qui si parla di montagne di vere montagne poi di faggevo neanche di macchia mediterranea proprio qui si parla di altre però sono boschi accoglienti invitano ad entrare e offrono protezione le Alpi sono delle montagne bellissime ma quando si è di fronte all'Alpe si ha subito la soggezione si ha subito la consapevolezza della piccolezza dell'uomo rispetto alla natura qui proprio ti invitano ti invitano ad accomodarti al loro interno e non da ultimo nelle vicinanze appunto dell'abbazia di Sant'Emiliano vi erano dei terreni dei terreni di epoca appunto dei Templari dove potevano coltivare le biade dei cavalli perché dove vi erano le mansioni Templari bisogna sempre ricordare prima di tutto che si allevavano i cavalli perché servivano erano le macchine da guerra dei Templari d'accordo perché loro dovevano proteggere i fedeli i pellegrini non solo in terra santa ma anche qui in patria per mantenere i cavalli occorrevano appunto le biade occorreva il foraggio d'accordo e seconda cosa loro avevano delle prescrizioni molto severe anche per la dieta non potevano mangiare carne sempre d'accordo solo in caso di malattia pesce e per Ticano non a caso ancora oggi c'è il laghetto il rio freddo il sentino e vi erano delle pescaie delle peschiere dove appunto allevavano i pesci e quindi non bisogna pensare che queste montagne siano brulle aspre o sterili tutt'altro tutt'altro e ancora oggi appunto offrono anche l'opportunità di vedere anche le mucche al pascolo delle scene appunto soprattutto in non solo in estate ma anche in autunno quando c'è l'esplosione dei colori o anche in primavera dei momenti veramente unici delle esperienze belle a sua mente sì assolutamente sì bene Fabio grazie allora di averci parlato anche di questa parte dell'Umbra della parte nord-est riferita in modo particolare a scheggia a pascelupo anche questi sono dei posti meravigliosi dal punto di vista naturalistico ma anche storico ovviamente per l'importanza testimoniale come tu hai detto appunto dei templari delle delle abbazie delle chiese dei percorsi religiosi ma dell'antica strada Flaminia che intorno a questa si veramente si sviscerano delle 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 antologie veramente storiche di cosa possono essere successe quindi veramente anche questi sono luoghi da vedere bellissimi perché troviamo ci troviamo poi tra Gubbio e Gualdo Tadino in questa zona in questa strada dove praticamente questi due luoghi sono altre due città meravigliose da andare a visitare da vedere con tanta ricchezza anche qui artistica e storica quindi veramente scheggia Pascelupo con le loro città e con i loro borghi ne vale anche qui veramente al pena per il viaggiatore anche Costacciaro anche Costacciaro assolutamente con il Monte Cucco che c'è quindi addirittura a Costacciaro l'inverno c'è il percorso di una pista per fare sci da fondo se uno volesse cimentarsi in questa zona appunto lì del Monte Cucco in questi luoghi che sono veramente suggestivi allora ringraziamo Fabio Capitan Nucci appunto per quanto riguarda sempre il suo contributo molto accattivante quindi veramente grazie Fabio per le cose che ci porti per RTN Radio per About Umbria a spasso un po' per le nostre bellissime luoghi questa volta appunto Rascheggia Pascielupo e Costacciaro abbiamo visto e viaggiato con Fabio per la nostra rubrica Borgo Bellezza consigli per i viaggiatori Fabio allora alla prossima puntata ciao Marco ciao a tutti e un caro saluto al vostro Marco Pareti per RTN Radio e About Umbria Magazine vi aspetto per la prossima puntata di Borgo Bellezza perché anche qui ne sentiremo delle belle e quest'altra e quest'altra volta sarà un argomento molto particolare perché andremo a visitare puntini puntini lo scopriremo cammin facendo strada facendo ciao 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 buona giornata anche a te posti poi grazie